mister una partita vissuta negli spalti per via della squalifica e quindi con tanta tensione fino alla fine due gol da manuale direi due gol di sanaa che abbiamo sentito prima delle interviste è cresciuto molto tecnicamente grazie anche alle tue indicazioni e sei riuscito a integrare perfettamente e tecnicamente nel tuo gioco cosa vogliamo commentare a riguardo vabbè sicuramente lui è stato è stato bravo il merito è tutto suo perché se ci si allena bene si lavora sodo i miglioramenti arrivano quindi bravo lui brava brava la squadra è stata una partita giocata meglio tecnicamente nel primo tempo il secondo tempo abbiamo difeso bene ogni tanto ci siamo abbassati forse un pochino troppo però era importante portare il risultato i due gol certamente sono venuti il primo tempo mi è piaciuto il primo gol dove sei partiti per bene qualitativamente si è giocato bene il secondo gol una ripartenza dove sanai è riuscito comunque ad affondare a raddoppiare insomma quindi contento per la per la squadra ma non abbiamo fatto niente sempre molto critico come mister perfezionista direi beh dobbiamo lavorare su noi stessi sulla continuità le prestazioni abbiamo detto ci sono state sicuramente nella gironi d'andata adesso dobbiamo lavorare sulla continuità dobbiamo essere costanti certamente non dobbiamo amare la vittoria di oggi e scordarci dobbiamo già pensare che arriverà una prossima partita e c'è da c'è da fare punti insomma grazie grazie a te sana complimenti perché nonostante oltre a ovviamente a questa doppietta personale che importante sei cresciuto molto tecnicamente in questo fronti due gol bellissimi che meritano comunque un'attenzione e un ringraziamento anche alla squadra perché il collettivo che ti ha permesso poi di fare così splendidi gol da manuale a chi li vogliamo dedicare cosa pensi di queste tue prestazioni molto contento partita se noi fatto due due gol se ancora facciamo lavoro bene si pure mister sempre dire fai un movimento così se fai un movimento così tu fai gol se così io penso questo questa partita quella mister ha detto prima io ho fatto poi io ho visto quella mister ha detto molto contento con squadra grazie prego